La sala del Consiglio Comunale di Arezzo si aprirà alle persone down per un consiglio speciale. Lunedì 4 febbraio alle 16 saranno gli operatori dell'Associazione IPD di Arezzo e 10 ragazzi a portare all'attenzione della Giunta Ghinelli le problematiche delle persone con disabilità intellettiva. I nostri ragazzi camminano bene, deambulano facilmente e sanno muoversi in città in maniera sicura. Certo è che l'ambiente deve essere adatto, quindi per fare degli esempi concreti le strisce pedonali si devono vedere, i semafori nei punti di attraversamento devono essere il più chiari possibile, proprio per evitare poi gli incidenti che possono essere anche per noi, ecco poi. E quindi vanno aiutati, è compito dell'amministrazione, quindi facciamo queste semplici richieste. Perché i nostri ragazzi sono cresciuti, crescono e stanno diventando degli adulti. Quindi per noi è veramente essenziale cominciare a parlare e a capire se ci possono essere delle proposte concrete per strutturare dei progetti di vita e degli percorsi verso la vita indipendente, che comprendano anche un lavoro probabilmente detto, come per ognuno di noi, quindi retribuito e in cui si può dare il meglio di sé. A volere fortemente questa iniziativa, l'assessore alle pari opportunità del Comune di Arezzo, Tiziana Nisini, che annuncia non sarà un unicum, ma l'inizio di un percorso di confronto e lavoro. Non deve essere una giornata fino a se stessa, non è questo l'intento, se ne è discusso molto, ma deve essere l'inizio di un percorso che si apre ufficialmente con un Consiglio Comunale e poi proseguirà con incontri, perché no, un altro Consiglio Comunale con nuove idee, nuove proposte, nuove anche critiche, speriamo, insomma, noi ce la metteremo tutta anche per andare incontro alle loro richieste e accogliere anche le loro proposte, perché no, in un'ottica di collaborazione e proprio per portare avanti un progetto che credo sia dovuto.